Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TanZero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò. Il Podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. In questo episodio non troverete musiche, non troverete testimonianze, non troverete effetti sonori. Solo parole nude e crude affinché l'ascoltatore possa entrare nella verità senza retorica. Siamo in una fase in cui io voglio che chi ascolta capisca e rinizia a sentire più avanti. Buon ascolto. Dicono che l'Italia non voleva vedere. Alcuni testimoni di quegli anni a loro volta dicono, tuttavia, che quando si decideva che una persona doveva vivere quel momento, chiamiamolo della reclusione, poi questo era determinante, cambiava le cose, trasformava casi persi, disperati, in elementi di spicco poi per la realtà stessa. Gente che prendeva fiducia di sé e che poi iniziava un vero percorso interiore. La piccionaia, il canile, rappresentavano il castigo per certi elementi che erano ben oltre il fondo e che si trovavano all'improvviso e all'inferno a fare i conti con loro stessi e le loro scelte. Nel frattempo si va dai testimoni ai testimonial. Figli di personaggi famosi iniziano a frequentare la comunità e del resto non c'è persona più grata di un genitore che vede suo figlio rinascere dalla droga. Ad esempio Enrico Maria Salerno disse sul figlio prima del percorso non c'è possibilità, gli auguro una serena e dolce morte. Per poi ritrovarsi lo stesso figlio, vivo e vegeto, in televisione che racconta come è sopravvissuto. A livello mediatico, vedere la faccia pulita del ragazzo ancora vivo che abbraccia Muccioli come fosse lui suo padre quale pubblicità è più efficace? Ridere in diretta televisiva dei ceffoni del Muccioli a fin di bene come fossero dovuti come se avesse l'autorità per darli. E' praticamente questo il via libera, la consacrazione, si fa così Vincenzo Muccioli aveva la benedizione di chiunque Indro Montanelli che diceva che l'educazione è crudeltà A testimoniare al processo aveva Paolo Villaggio al top della sua carriera che, testuali parole, ha fortunatamente mandato suo figlio a rinascere Quelli di Vincenzo vengono chiamati schiaffi benedetti Quelli che i padri progressisti non hanno avuto il coraggio di dare In questa fase io mi sento spaccato a metà perché io detesto che una persona possa usare la violenza per convincermi di qualcosa Faccio parte di quella generazione che si è sentita dire Voi due schiaffi vi farebbero bene Ma in ogni caso abbiamo imparato a vivere col tempo Ci ha pensato la vita a schiantarci con la realtà E quindi in questo punto della storia Comincio a vedere Vincenzo come uno che non farebbe mai un passo indietro Che moralmente ha ragione ma praticamente sta iniziando a prevalere un po' l'ego su di lui Perché se tu commetti un'infrazione e tutta Italia ti dice che hai ragione Allora come puoi metterti in discussione davvero? La battaglia, Vincenzo, non la combatte solo in tribunale La combatte con se stesso E quando hai certe responsabilità non puoi permetterti troppi dubbi proprio perché sei leader Non puoi chiedere certezze al mondo Sei tu la certezza di un mondo Per sporcare un po' la figura di Vincenzo tornano a circolare le voci sul suo essere medium sul fatto che abbia indottrinato Moratti curandolo da una presunta forma di labirintite attraverso metodologie esoteriche cercando di far passare Vincenzo come una persona che crea una sorta di rapporto basato sulla dipendenza affettiva con il prossimo Io credo semplicemente che stessero cercando di mettergli addosso un po' di Macabro Un classico dell'Italia Per i suoi nemici era necessario farlo condannare perché voleva dire aver ragione e stroncare sul nascere questo super uomo che se assolto poteva iniziare a sentirsi onnipotente Ma questi stessi nemici non avevano valutato che non c'è miglior vittoria agli occhi del cuore delle persone di chi ingiustamente esce sconfitto E Vincenzo Muccioli viene condannato in primo grado ad anni uno e otto mesi di reclusione Leggere il resto della sentenza è pressoché impossibile L'aula è invasa da schiamazzi Persone che gridano vergogna Il popolo non ci sta L'indignazione è forte E tornano nuovamente a parlare loro I genitori Madri Padri Coloro che hanno sofferto il problema della droga E dalla televisione puoi vedere lo sconforto Hai la percezione che se quelli che lo vivono il problema Credono che vada bene quel metodo Cosa c'entra lo Stato? Lo Stato non le ha le soluzioni Lo Stato non ha neanche i tentativi Lo Stato È stato messo al bando Da un uomo solo E che pare Si è intervenuto Lo Stato Per puro orgoglio Per guastare la festa La percezione che si ha Guardando certe immagini E che la questione era privata Tra Muccioli Le famiglie dei tossicodipendenti E i tossicodipendenti E tutti erano d'accordo con lui Se non vivevi il problema Se non ne facevi parte Allora Eri dalla parte di Vincenzo Ora Chi siamo noi? Persone esterne Per giudicare chi quella battaglia La sta combattendo E visti i risultati Sta anche vincendo di gran lunga La verità però È sempre la stessa Una verità che aleggia Dal principio della storia Di San Patrignano Ovvero che davanti a quella Che in teoria È una sconfitta C'è l'ennesima vittoria L'ennesima consacrazione Della figura di Vincenzo Muccioli Sempre più amato Sempre più difeso Sempre più potente E sempre più famoso Segui i podcast di Voice Sulla tua app di podcast preferita E se sei un utente Prime Ascoltalo senza pubblicità Su Amazon Music Grazie mille a tutti